Lasciami salutare il professor Tremonti con un gesto di pace. Professore, io la ringrazio se mi vorrà far avere la Costituzione. La regalerò a qualcuno che ancora non ce l'ha. Le volevo assicurare che nel 2001 comunque ero già nata e quindi mi ricordo quello che è accaduto. Non sono così giovane. Ero proprio anche a Genova, guardi, al G8, si ricorderà anche quello. E quindi il governo d'Alema, lo ricordo perfettamente, ribadisco che la Costituzione, come lei sa meglio di me, non la può cambiare una sola forza politica. È vero che quello era il governo in carica, ma è vero che ci vogliono maggioranze molto larghe. Signora, è stata cambiata con una maggioranza minima, ma è stata cambiata dal centro-sinistra. Se posso dire, io sono assolutamente a favore del recovery, eccetera. noto che è basato sugli eurobond, che sono una proposta fatta da me nel 2003, poi ancora nel 2010, sempre rifiutata. Quindi io sono assolutamente a favore. Mi limito a dire che il PNR è stato scritto in un mondo che purtroppo è finito. Diceva che va a rivista. È stato scritto in un tempo che purtroppo è terminato. Se vuole, adesso si parla di carbone, nel PNR si parla di tutt'altro. Qualcosa è successo nel frattempo. Grazie, Tremonti. Mi rendo conto... No, no, ma ci torneremo, professore. Ci torniamo. Come si va? Grazie mille. No, davvero. Grazie, professore. È facilissimo cambiare la Costituzione e quindi adesso... No, adesso però non va bene. Con delle maggioranze minime si possono cambiare e quindi adesso ci apre una nuova stagione politica.